Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all'11 marzo 2018. Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all'11 marzo 2018. Tutti i segni e la classifica della settimana. 12- Toro. Settimana priva di smalto. Ci sono cambiamenti e scelte da fare, siete a un punto in cui volete cambiare vita. Ma il cambiamento non può avvenire adesso, perché saranno aprile e maggio i mesi più propizi. Lunedì e martedì vi sentirete affaticati. Non è settimana utile ai chiarimenti. 11- Gemelli. Qualcuno potrebbe tornare a rivivere un problema economico. Da questa settimana si decide il futuro lavorativo e professionale. Bisogna agire subito per chi ha dei progetti. Mercoledì e giovedì l'una in opposizione e disagi in vista. Recupero dalla prossima settimana. Mercoledì e giovedì e giovedì e giovedì e giovedì e giovedì. Mercoledì e giovedì e giovedì e giove per chi ha dei progetti. Fu호raum^^